Carlo della Penna, presentati gli eventi estivi, cosa c'è in programma? L'anteprima degli eventi estivi che si caratterizzerà meglio fra qualche settimana con l'uscita del calendario completo riguardante gli eventi culturali, sportivi e ovviamente turistici. Questo calendario delle anteprime avrete modo di apprezzare degli artisti nazionali e internazionali, ci sarà l'esibizione di Giovanni Allevi per l'introduzione e l'apertura del Vasto Jazz, ci sarà Fiolena Mannoia il 14 e Piazza del Popolo, Anna Lisa il 16 di agosto, ci saranno gli Offenbach il 13 di agosto, degli artisti che hanno caratterizzato molte colonne sonore di spot televisivi e trasmissioni televisive. Ci sarà a maggio l'apertura con il cammino con San Nicola di Giovanni Caccamo, il vincitore di Sanremo Giovani e l'ottavo classificato del Sanremo di quest'anno e possiamo dire che Vasto porta un pezzo del podio di Sanremo perché in un anno, tra San Michele e Ferragosto dell'anno scorso, sapete benissimo che abbiamo ospitato entrambi i vincitori di Sanremo, Fabrizio Morale del Marmeta, portiamo il vincitore del Festival dei Giovani di qualche anno fa e la seconda classificata che è Anna Lisa, quindi un pezzo di Sanremo siamo riusciti a portarlo qui da noi a Basto. Oltre a questo ci saranno, a questi artisti ci saranno tanti altri concerti, ci sarà il concerto di Caparezza allo Stadio Adriatico, ci sarà l'esibizione di Bollani, un grandissimo artista jazz internazionale, vedremo, ci saranno vari street food che liatteranno e accompagneranno i nostri turisti nell'estate vastese, ci sarà la possibilità di vedere volare le mongolfiere nel cielo vastese, quindi un'expo canina che permetterà a tutti gli amanti di cani, organizzato un'expo ufficiale organizzato dall'Enci, quindi vedrà la partecipazione di tutti i cani, darà la possibilità a tutti quanti di partecipare a questa manifestazione. Insomma, un calendario variegato per tutti i gusti, ci sarà il Festival Country per gli amanti del country, quindi un qualcosa che avranno modo di apprezzare in molti, proprio perché si contraddistingue di vari generi musicali e varie attività che ci vedranno qui i protagonisti, quindi un invito a tutti i turisti, farlo uscire già ad oggi, proprio per il ponte del primo maggio, per anticipare l'apertura dell'estate, ed è il nostro obiettivo, quindi spero che verrà apprezzato dai nostri concittadini e da coloro i quali verranno qui in vacanza. Quali i costi di questo cartellone estivo? I costi per ciò che concerne determinati eventi, dimenticavo prima di dire un evento molto importante, ovviamente il Siren Festival ormai è collaudato nella nostra estate vastese e accompagnato da tutti questi altri cantanti e festival che si vedranno qui a Basto. Ci sarà poi il Festival di Hitmania Dance, quindi nonostante questi nomi altisonanti, nonostante un po' la visibilità nazionale ed internazionale di determinati artisti, bene, per esempio per l'evento dell'Aqualand il Comune di Basto non pagherà un centesimo, quindi abbiamo fatto tutto ovviamente negli stanziamenti previsti dal nostro bilancio e pensiamo e crediamo di aver fatto un buon lavoro, perlomeno lo si spera. Un ringraziamento va a tutti i miei colleghi di Giunta e Consiglieri e all'Ufficio Turismo che ha collaborato con noi per stilare il calendario. Grazie per la visione!